Giampiero Mughini sembra sempre assorto nei suoi pensieri, ma ecco che di punto in bianco sfodera stilettate taglinetti verso i partecipanti del GF. Siete pronti a scoprire le parole ardenti di Giampiero Mughini? Benvenuti su Gossip TV, il tuo canale di riferimento per il gossip più intrigante e del reality più affascinante. Ma chi è il malcapitato? Mughini si è scagliato contro Giuseppe in difesa di Beatrice Luzzi, e questa volta non possiamo che essere d'accordo con lui. Ascoltate cosa ha detto Giuseppe e commentate con il vostro pensiero. La tensione è montata quando Giuseppe Garibaldi ha pronunciato frasi taglienti nei confronti di Beatrice Luzzi durante una discussione accesa. Giuseppe ha detto, lei si sente ancora più forte. Io lo so perché fa questo, non sono scemo. Non è che una donna di 50 anni, lei se ne fa asterisco asterisco e dei figli, di quello che c'è fuori. Fa tutto per gioco. Se no non avrebbe mai detto che doveva finire qui. Quindi cosa pensate di Giuseppe? Un duro colpo per Beatrice, che non si aspettava questa reazione da parte di un concorrente verso il quale prova un'attrazione. Ma è stato proprio in questo momento che Giampiero Mughini è entrato in scena, con una reazione esplosiva. Ha dichiarato. Ma proprio sei cretino, allora? Allora è diversa la cosa. Ma è grave, perché così manchi di rispetto a una persona. La discussione è continuata con un confronto tra Giuseppe Garibaldi, Samira lui e Beatrice Luzzi. Giampiero Mughini ha colto l'occasione per sottolineare l'atteggiamento di Giuseppe, che sembrava interessato a Samira mentre abbracciava Beatrice. La situazione si è fatta imbarazzante, e Beatrice ha commentato, un disastro. Praticamente è come se baciassi la tua donna e pensassi all'amante. Vi pare ammissibile un comportamento simile? Scrivetelo nei commenti. Ed iscriviti al canale per nuovi aggiornamenti sul mondo del gossip e dei reality show. Giampiero Mughini ha concluso con un'osservazione tagliente. Ma non esiste. Non esiste che tu con un occhio guardi in una direzione. Si può essere cialtroni in tanti modi. Questo è uno di quelli. Bella figura del tortellino ha fatto Giuseppe. Che dite avrà capito la lezione?